Ciao a tutti, sono Paolo Giordano, vi mando questo messaggio da Roma. Sono molto contento che il mio saggio nel contagio venga tradotto in lingua basca e che attraverso Berria possa raggiungere molti lettori perché in questa crisi siamo tutti insieme e questo è un modo per sentire la vicinanza anche con voi. Grazie a tutti.